Grazie al professor Cornolli per questa interessantissima presentazione perché il tema appunto dell'affaticamento è un tema cruciale perché, aggiungo, se è un po' difficile identificare la dislessia in età evolutiva in adolescenza è quasi impossibile, come diceva anche lui Sì, devi venire qua, Enrico, grazie Nel frattempo io faccio Pippo Baudo Al di là di questo, stavo dicendo, in adolescenza risulta molto difficile proprio perché per gli insegnanti, per esempio, dicono ma in fondo legge fluentemente, ma in fondo scrive abbastanza fluentemente come citava appena adesso il collega Cornolli e naturalmente si è poco inclini ad accettare la risposta soggettiva del ragazzo ma io faccio molta fatica e quindi avere strumenti che misurano oggettivamente questo affaticamento è veramente un contributo molto importante per aiutare le persone che mantengono delle difficoltà perché noi diciamo sempre che compensano poi ogni tanto diciamo che di dislessia uso il termine sbagliato che io rifiuto sempre ma non si guarisce, certo, non è una malattia ma voglio dire, si usa per dire che la dislessia persiste nel tempo sì, ma cambia espressività questo è il punto e lo sforzo che stanno facendo diversi gruppi di ricerca è proprio questo di cercare di trovare gli indicatori di questo cambiamento di espressività bene, detto questo io ho dato, prego, scusami volevo aggiungere proprio una cosa, una considerazione ma credo che possiamo andare così proprio a ruota libera e fare intervenire qualsiasi di voi perché credo che queste due presentazioni di questa mattina tenete presente sono le uniche persone di riferimento della dislessia in età adulta in Italia per cui approfittatene al di là del cambiare l'espressività e credo ci sono, iniziano ad arrivare abbastanza delegati del rettore della disabilità dei nostri uffici io vi dico realmente quanti ragazzi arrivano in età adulta quindi all'università ancora senza una diagnosi precisa e anche molto spesso sono in realtà siamo noi i docenti che ci accorgiamo e li indirizziamo a una procedura diagnostica perché probabilmente le richieste anche della scuola superiore non erano così pressanti come all'università per mettere in luce questo problema per cui quello che diceva Giacomo Stella del cambiamento di espressività in base forse anche alle richieste del curriculum scolastico certamente oppure era anche forse, mi viene da pensare uno degli indici di abbandono negli anni precedenti della scuola superiore per cui io credo che ne abbiamo veramente approfittiamo di questo quarto d'ora per poter avviare delle domande e una discussione con il dottor Ghidoni e il professor Cornoldi la Pro Santulli subito l'università di Milano magari ci dici un po' il ghiaccio volevo dire una cosa prima rispondendo in qualche modo a quello che diceva credo il professor Cornoldi come delegato del rettore e membro di CNUD della conferenza nazionale sicuramente le percentuali di studenti universitari cioè in università la percentuale di studenti con dirle sia è più bassa di quella della popolazione generale questo l'1% mi sembra già tantissimo probabilmente è molto meno e qui poi le ipotesi sulle ragioni possono essere per una certa misura ovvie per altri aspetti forse andrebbero anche indagate meglio invece io volevo fare una domanda a Ghidoni mi scuso sono arrivata che aveva già iniziato a parlare quindi magari l'ha detto all'inizio le prove che sono state utilizzate in questo progetto di agnosi se sono state fatte delle prove ad hoc per adulti sono state utilizzate quelle che si utilizzano per gli ultimi anni della scuola perché quello che mi ha colpito è che il protocollo diagnostico che ha descritto Ghidoni ha il grandissimo vantaggio della semplicità come tu dicevi alla fine è molto lineare e i dati sembrano così confermare che indirizzando bene lo sforzo si ottengono delle informazioni utili anche con uno sforzo diagnostico contenuto però mi chiedevo poi se c'è una correlazione cioè quello che sarebbe interessante vedere è qual è la risposta di questi soggetti che poi danno un esito con questo protocollo diciamo compatto a altri tipi di prove che ha fatto vedere il professor Cornoldi che se ho ben capito non sono state utilizzate per il progetto di agnosi quindi forse come diceva Elisabetta abbiamo qui i due massimi esponenti forse unici che si occupano di dislessia nell'adulto in Italia e credo che sarebbe il momento forse un auspicio che si facessero un po' si mettessero in sinergia questi dati e anche queste metodiche che sono state sviluppate dunque le prove sono quelle quelle solite che vengono usate anche negli ultimi anni della scuola secondaria addirittura della scuola secondaria di primo grado cioè prove che tutti conoscono le liste di parole solite insomma il brano il disastro ecologico insomma il principio che noi abbiamo applicato è dobbiamo avere dei valori normativi in funzione dell'età e della scolarità quindi noi abbiamo ristandardizzato queste prove ottenendo dei valori normativi per le varie classi di età dai 18-24 fino ai 54 anni e quindi i confronti per stabilire normalità o patologia sono stati fatti con dei cut off che sono differenziati per l'età e la scolarità all'interno di ogni gruppo quindi è un sì è un approccio di tipo neuropsicologico che è tipico dell'età adulta insomma per quanto riguarda l'altro discorso del confronto è stato fatto un un così un diciamo un lavoro di iniziale di confronto tra le due batterie proprio presso qui l'università di Modena e alcuni dati devo dire molto preliminari perché c'è da lavorarci sopra ancora parecchio secondo me verranno presentati anche oggi pomeriggio dal dottoresse Boni e Guzzo vorrei fare fare una domanda sono un genitore sono qui genitore di un ragazzo dislessico che frequenta l'università vengo dall'università di Reggio e vengo dal momento di certificazione fatto all'interno del centro in cui opera il dottor Guidoni il servizio per noi impeccabile e vorrei però porre l'attenzione visto che si è parlato tanto di certificazione del valore di questa certificazione all'interno dell'università mi faccio riferimento al vademecum per docenti che l'università ha fatto uno strumento valido e preciso che regolamenta in modo impeccabile lo svolgimento degli esami come genitore però vorrei porre l'attenzione su un importante momento formativo del percorso universitario che è il tirocinio il tirocinio è un momento dove lo studente deve fondere le competenze teoriche e le abilità pratiche è un momento di grande sforzo per lo studente dislessico visto che si è parlato di affaticabilità la certificazione di dislessia ha valore in tutto il percorso formativo universitario e quindi durante anche l'esperienza di tirocinio quanto all'interno della certificazione viene tutelato il momento del tirocinio sono monitorate da parte dell'università e del servizio accoglienza dsa le criticità che lo studente dislessico può incontrare durante il tirocinio che all'interno all'interno di questo del tirocinio infatti sono previsti importanti e decisivi momenti di valutazione come sono tutelati e in caso di criticità quali sono gli strumenti di certificazione di lettura e di supervisione di un momento così importante del percorso formativo concludo con la domanda che ha posto prima il dottor Stella ma il tirocinio all'interno dell'università è un fattore di protezione o di rischio aiuta frena o addirittura blocca lo studente con DSA io posso dire è chiaro che sulla carta le cose dovrebbero essere in un certo modo poi bisogna vedere chi ci si trova di fronte davanti alle situazioni concrete che può aver recepito o non recepito queste indicazioni può non sapere nulla di che cos'è la dislessia questo succede anche all'università di Modena e Reggio Emilia in cui ci sono docenti che non sanno nulla sulla dislessia quindi purtroppo possono succedere in concreto situazioni veramente molto sgradevoli come quella che credo sia dietro questo tipo di domanda cioè tirocini che vengono alla fine diventano un momento in cui lo studente con DSA viene invece che supportato e aiutato viene buttato fuori sì c'era il professor Coronato volevo dire due parole sì no volevo fare una riflessione sul fatto che il lavoro con i DSA in università è molto una novità e quindi credo che del resto anche nel resto del mondo non è che ci siano tutte queste grandi esperienze quindi credo che molto sia ancora da costruire si è cominciato con l'uso di strumenti per l'identificazione ma adesso c'è da un po' da costruire così l'aiuto l'appoggio adesso prendo ispirazione in senso generale della domanda della collega perché poi nel loro quotidiano cosa succede a questi ragazzi in difficoltà una cosa che ho rilevato è che bisogna trovare anche i modi per agganciarli per esempio l'anno scorso abbiamo fatto la valutazione che l'anno scorso mi pare fossero stati i 70 e poi gli abbiamo proposto di fare un percorso sul metodo di studio per uno studente con dislessia il metodo di studio deve essere diverso perché è inutile che passi il tempo a leggere 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 no si trovano i modi più funzionali si fa una discussione ma non abbiamo avuto una grande risposta quindi da un certo punto di vista questa è una delle vie seguirli aiutarli non solo gestirli nelle facilitazioni nell'uso degli strumenti compensativi e dispensativi ma anche aiutarli a fare un percorso il più funzionale le loro caratteristiche il più indolore però capisco che primo forse la nostra proposta non era convincente e forse anche noi dobbiamo elaborare una specificità di competenze per la fascia degli studenti universitari dall'altro anche loro sono combattuti poi quando abbiamo ritrovato alcuni di loro e abbiamo chiesto come mai non avete aderito a questa proposta hanno detto ma io adesso preferisco provare a fare con i miei mezzi non voglio neanche più che se ne parli tanto dalla mia condizione ecco che da un lato è bello è orgoglio però dall'altro ho capito che segna anche un rapporto un po' contraddittorio con la propria condizione quindi penso che sia ancora tutta da costruire la competenza l'esperienza la ricchezza di esperienze per cosa fare poi mentre sono in università che probabilmente è ben più importante della diagnosi per se stesse io credo che il professor Cornoldi solo due parole abbia messo proprio il dito nella realtà bisogna arrivare a lavorare di più sull'orientamento io credo che i delegati qui presenti colleghi di vari atenei hanno realmente una marea di casi di ragazzi che purtroppo hanno un abbandono e che sia un problema di disturbo specifico dell'apprendimento che sia un problema di disabilità certamente il tirocinio soprattutto per le professioni per i corsi di laurea in cui abilitanti sono una delle problematiche maggiori che stiamo affortando come direttivo della CNUD in cui abbiamo realmente anche una prossima riunione con il direttivo della conferenza direttore delle università italiane certamente le professioni abilitanti sia dell'educazione sia delle professioni sanitarie comportano il raggiungimento di determinate competenze e il supporto è solo nell'esecuzione dell'esame ma certamente devono raggiungere le stesse competenze non si può certamente transiggere da questi raggiungimenti perché a questo saranno chiamati nel loro professione allora vi dico subito di un caso di un nostro ragazzo che credo il dottor Ghidoni tutti noi siamo a conoscenza che aveva fatto medicina che aveva un problema di apprendimento però è arrivato al quart'anno con gli esami abbastanza in regola di fronte alle cliniche ha abbandonato allora certamente si è arrivato a un punto in cui probabilmente sono messi in crisi e tutti noi dovremmo essere più precisi e più impegnati nell'orientamento lascio professor Stella un minuto io avevo anche perché ti voglio devi andare un attimo di là devo andare a dire sto zitto no no io in parte volevo dire quello che ha detto prima professor Cornoldi cioè noi in realtà anche da tutto quello che è stato presentato stamattina e che io ritengo che sia un notevolissimo passo avanti però ci stiamo occupando di lettura scrittura e calcolo quindi tutto il re ed è ancora logico che sia così perché fino ad oggi non avevamo dati sulle difficoltà di lettura scrittura e calcolo che pure rappresentano quindi la cassetta degli attrezzi anche per lo studente universitario però siamo limitati a questo poi quando invece bisogna esporre per esempio quando bisogna essere rapidi molti dislessici lamentano anche in età adulta la difficoltà di esposizione cioè di organizzazione rapida di riorganizzazione è chiaro che questo in un tirocinio emerge in maniera molto importante ma come diceva Ghidoni cioè è molto difficile un lavoro che noi dobbiamo fare con i nostri colleghi non nascondo che stiamo battagliando molto perché proprio alla luce delle difficoltà che insorgono durante il tirocinio abbiamo gli incontri in Ateneo per dire quali sono i livelli di accesso quando dobbiamo ammettere uno studente all'università oppure non dobbiamo ammetterelo quindi è un tema caldo e grosso bene siamo arrivati al momento della discussione che termina con l'ingresso di